Covid il virus si alza la testa all'inizio di agosto. I casi in aumento del 22 in Italia, la nuova ascesa dei casi Covidid. A causa di una nuova variante Covidic alza la testa all'inizio di agosto il giornale La Stampa. Nella sua edizione online. Ha riportato le ultime notizie. Nella settimana dal 3 al 9 agosto ci sono stati 6188 casi. Contro 5369 del precedente e 4002 di quello anche prima. Alla luce di ciò, i contagi sono in aumento del 22 in Italia. Con un indice di trasmissione RT superiore a 1. E per essere stimato a 1,08 questo valore indica che la pandemia è leggermente aumentata. Il responsabile di questa salita dei malati è la variante EG. 5 che ha causato un aumento dei contagi in altri paesi, specialmente nel sud-est asiatico. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Ha affermato è una variante leggermente diversa rispetto alle ultime circolano e presentano. Mutazioni lo rendono leggermente diverso dagli altri. La popolazione può essere. Tuttavia, è difficile. Stiamo assistendo a ciò accade quando una nuova tensione incorpora le precedenti. Per quanto riguarda la biancheria intima ad esempio 5.1 dobbiamo ancora aspettare che i dati vedano. Quale sarà il suo grado di penetrazione nella popolazione. Questa legge ha suscitato diverse reazioni contrarie di molti infettivi. In particolare il professor Massimo Galli. Che lo considera una scelta senza alcuna base scientifica.